Mellito di Porto Salvo, il futuro non si aspetta, si prepara. Oggi sabato 11 alle ore 16.30 di questo pomeriggio l'atteso incontro dibattito per accendere i riflettori e l'attenzione sulle imminenti elezioni comunali, quindi accendere l'attenzione sulla politica e sui bisogni del territorio meridese. Questo incontro dibattito, organizzato dalla nostra emittente, dall'Associazione Culturale Capo Sud Television Channel, si terrà appunto, come dicevamo, alle ore 16.30 presso l'hotel Serrano in via nazionale a merito di Porto Salvo. Ascoltare, proporre, partecipare. Alla manifestazione è prevista la partecipazione del coordinatore regionale di Libera Calabria, Mimmo Nasone, del senatore Antonio Caridi, del consigliere regionale onorevole Francesco Carnizzaro, ma anche di numerose altre autorità politiche ed istituzionali. Sarà un confronto aperto, insomma aperto, un dibattito con tutte le proposte costruttive di tutti i cittadini che vorranno partecipare. Un confronto in vista delle elezioni del 31 maggio per il rinnovo del Consiglio Comunale, al fine di fare che cosa? al fine di portare l'intera popolazione a conoscenza di molti fatti e fare chiarezza sulla situazione politica che si sta appunto delineando e che si sta anche vivendo in funzione appunto in questo periodo. Sarà quindi un confronto aperto con tutte le proposte costruttive e i cittadini di merito di Portosalvo che vorranno partecipare. Un confronto in vista delle prossime amministrative del 31 maggio 2015 dove i cittadini saranno chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale di Merito di Portosalvo. Un controllo, un dibattito, un confronto al fine di portare all'intera popolazione un po' di più di chiarezza circa la situazione politica che si sta vivendo e creare quindi le condizioni per una politica a misura di cittadino ed un cittadino più vicino alla politica e dalle istituzioni. Quindi il dibattito è stato amoreterato dal sottoscritto, noi invitiamo i cittadini a partecipare, ascoltare, proporre e quindi poi decidere. E' un momento molto importante, non si può quindi delegare senza conoscere. A questa sera quindi al hotel Serrano di Merito di Portosalvo alle ore 16.30. Ti aspettiamo, buona giornata. Grazie a tutti.